Nello studio della tradizione Proietti era un grande innovatore. Non si è fidato solamente del suo talento gigantesco ma ha continuato ad allenarlo per tutta la vita. Tutte le cose fatte bene non sono solo frutto di una felice intuizione. La felice intuizione è la scintilla di partenza per fare uno spettacolo come per costruire una macchina. Poi dopo però c'è bisogno di disciplina per far diventare una cosa meravigliosa da far ammirare a tutti. Quella è la grande lezione che ci ha lasciato, che non basta un talento a fare un grande uomo di spettacolo. Gigi dice che essere popolare significa essere accogliente, la capacità di accogliere le persone. Da Megliocchi in Pleasing poi è cambiato il concetto di popolare. dietro c'è uno studio inimmaginabile, una quantità di testi, di testimonianze, di repertorio che hanno formato un pubblico che ha cominciato ad abituarsi a vedere cose che non aveva mai visto prima. in generale a